Eccoci collegati, buon pomeriggio, eccoci con il nostro consueto incontro con i webinar organizzati in collaborazione con Deutsche Bank. Buon pomeriggio da me Pierpaolo Scandurra e benvenuti quindi a questo incontro che vi invito a seguire perché ci saranno come di consueto un po' di idee che cercherò di condividere con voi. Giornata che si sta tingendo di rosso, resiste solamente il Nasdaq, per il momento con un timidissimo segno verde ma che comunque dimostra ancora una volta la forza che i titoli tecnologici dell'estino americano continuano a mostrare anche nei confronti di altri settori che invece oggi pagano. In particolare si fa notare in negativo l'indice DAX, quindi giochiamo in casa in Germania in questo caso con un calo dell'1,30% sul contratto future, questo a causa di almeno due storie particolarmente negative che riguardano in particolare il titolo buyer che sta perdendo in questo momento il 10,59% dopo aver segnato anche un minimo ben più pesante e questo a causa di una sconfitta in tribunale su una causa avviata contro buyer e poi 12.000 licenziamenti, insomma una serie di notizie non positive che in qualche modo interessano il titolo farmaceutico e portano giù un po' tutto il settore. Altra notizia di giornata, la trimestrale non positiva del titolo BMW che anche in questo caso influisce su tutto il settore automotive europeo, anche la nostra Fiat che ieri era cresciuta di oltre il 5% sulle voci di una possibile fusione con Peugeot, oggi invece paga Dazio e corregge in questo momento di circa il 3% o poco meno. Quindi notizie come vedete non particolarmente positive, anche lo stesso titolo Deutsche Bank in questo momento è il ripasso del 2,27 dopo che nei giorni scorsi aveva preso un po' di fiato sulle voci di questa possibile integrazione e fusione con Commerce Bank. Insomma questo è un po' il quadro di giornata, vediamo un po' quello che può essere la chiusura in quest'ultima ora e mezza, almeno in Europa. Ricordiamo sempre che almeno per la prossima settimana ci sarà un differimento per l'ora legale che in America già è stata introdotta, quindi le contrattazioni partono alle 14.30 anziché alle 15.30 ore italiana. Vediamo insomma come si concluderà questa giornata che comunque almeno per quanto riguarda il nostro listino ci vede circa 50 punti al di sopra dei minimi di giornata e 100 al di sotto dei massimi. Questo vuol dire che nonostante le cattive performance provenienti dalla Germania, almeno in Italia tutto sommato oggi la volatilità non è così accentuata e più o meno è in linea con quello dell'ultimo periodo che è effettivamente molto diminuita. Volatilità che come chiaramente ben sappiamo incide sul prezzo dei nostri certificati e se da una parte chiaramente può far piacere a chi è già acquistato perché fa sì che i prezzi tendano a salire, dall'altra rappresenta un po' un problema per chi è alla ricerca di qualche spunto operativo dal momento che le occasioni non è che fiocchino poi così tanto. Quindi questo è un po' il quadro di giornata. Per quanto riguarda, come sempre, soprattutto per chi è all'ascolto le prime volte, vi ricordo che potete interagire con me utilizzando il pannello sulla vostra destra, quindi ricordo destra del vostro monitor dove c'è il blocco dedicato al collegamento webinar, c'è la possibilità di aprire una chat. Lo dico perché in un momento ho incontrato qualcuno o anche di persona in uno dei miei recenti corsi che mi chiedeva proprio come potete interagire. Ecco, c'è quindi un pannello sulla vostra destra da utilizzare per interagire e per poter scrivere. Il webinar è in fase di registrazione e per chi non fosse in grado di poter seguire l'intera trasmissione sarà messo a disposizione anche sull'archivio webinar sul sito xmarkets.db.com. Siamo qui in home page, vedete che c'è sempre l'appuntamento con il prossimo webinar, in particolare oggi, 20 marzo, quello che stiamo effettivamente mandando in onda e tutti i precedenti con questo interessantissimo riepilogo dei certificati di cui si è parlato in precedenza. Quindi questo è un po' il quadro, adesso come insomma dopo una breve introduzione che dà modo a tutti di collegarsi direi che possiamo iniziare anche a vedere qualche idea. Allora intanto sia Giuliano che Francesco mi chiedono, che chiaramente saluto e ringrazio per l'intervento, mi chiedono qualche certificato con scadenza breve, quindi entro l'anno non troppo rischioso. Vediamo un po' cosa c'è e direi di partire innanzitutto con un riepilogo o meglio in realtà più che riepilogo ritorniamo sulle situazioni di cui avevamo parlato anche nel precedente appuntamento perché in alcuni casi si sono mosse, hanno portato a qualche punto in più, ad esempio in particolare proprio questo certificato che vediamo ora, un Phoenix Memory legato al titolo Enel che rispetto all'appuntamento del 12 febbraio ha continuato a crescere. Ricordiamo che ad esempio il 12 febbraio Enel era in rialzo del 13% rispetto allo strike, oggi è in rialzo del 21 e 53%, quindi al momento 5 e 56 e 6 per il titolo Enel rispetto ai 4 e 58 dello strike, quindi un rialzo del 21 e 53% e una barriera a 3,20 e 60 ben lontana e quindi al momento sufficientemente a distanza. Che cosa ci permette di fare il certificato? Non ha un'osservazione a brevissimo ma è comunque entro l'anno. Rilevazione 27 settembre 2019, questa sarà la prima data utile per la rilevazione, per poter incassare una cedola del 6,80% e in questo caso il livello da rispettare sarà proprio la barriera che abbiamo detto a 3,20 e potenziale rimborso anticipato di 6,80% di premio che si va a sommare ai 100 euro nominali nel caso in cui Enel dovesse anche essere al di sopra dello strike. Allo stato attuale quindi abbiamo una situazione, come ripeto, di un vantaggio di Enel rispetto allo strike di circa il 21%, pertanto anche considerando che nel frattempo Enel distribuirà dei dividendi che ora andiamo a vedere assieme, quindi andiamo a vedere nel dettaglio il calendario dei dividendi in programma, abbiamo per il 22 di luglio, la prossima data con lo stacco di un dividendo di 14 centesimi, quindi anche tenendo conto di questo stacco che corrisponde a poco meno del 3%, quindi 2,5%, il margine sullo strike che abbiamo detto essere a 4,58 rispetto ai 5,56 attuali, quindi se anche togliamo 14 centesimi ai 5,56 andiamo a un 5,42, sullo strike di 4,58 rimane quindi sempre un abbondante margine, in particolare pari dal 17%, quindi se Enel riuscirà a difendere il 17% nei prossimi sei mesi, il certificato acquistato oggi a 103,20, questo è il prezzo lettera fotografato in una delle osservazioni che abbiamo fatto nel corso della giornata, quindi se si riesce ad acquistare nell'area dei 103,103,20 porta ad un potenziale rendimento di circa il 3,50%, quindi ricapitolando, situazione di breve, ovvero entro l'anno settembre 2019, rendimento potenziale da oggi 3,50%, se Enel mantiene per quella data il livello strike di 4,58. Se non dovesse avvenire comunque non sarà un dramma o almeno non sarà un evento che significativamente andrà a diminuire necessariamente il nostro investimento, perché? Perché in quella data, cioè 27 settembre, se non ci sarà rimborso anticipato ci sarà comunque il pagamento della cedola del 6,80%, perché la barriera a quel punto non sarà più il livello da guardare, non sarà più lo strike di 4,58, bensì la barriera di 3,20 e in assenza di rimborso anticipato si proseguirà verso la data successiva che a quel punto sarà l'anno 2020, 28 settembre 2020. Quindi primo certificato di cui abbiamo voluto dare notizia, rispetto all'osservazione di febbraio dove si poteva acquistare a 101,7 oggi si acquista 103,20, quindi in questo mese comunque chi avesse acquistato a febbraio avrebbe comunque ottenuto un rendimento per ora di circa un punto e mezzo, con una prospettiva di guadagnare anche di più prossimamente. Rimaniamo su Enel perché volevo farvi vedere un'altra situazione di brevissimo, in questo caso 5 giugno 2019, quindi un'osservazione ancora più ravvicinata, per questo certificato. Enel ricordo che è uno dei titoli più tonici e meglio messi non solo degli ultimi due mesi, ma anche dell'ultimo anno sul nostro listino, quindi sta garantendo un'ottima tenuta. In questo caso il certificato di cui parliamo, i codici ISIN credo che sia superfluo da parte mia leggerli in quanto potete vederli in maniera abbastanza chiara, credo anche molto chiara direttamente qui nelle schede che sto mostrando. In questo caso abbiamo un prezzo lettera 104,33 e una situazione che vede il titolo Enel con strike a 4 e 71 essere in questo momento in guadagno del 18% rispetto allo strike. Quindi dal momento che la prima data di osservazione utile sarà il 5 giugno 2019 non ci sarà neanche l'impatto del dividendo che come abbiamo detto verrà staccato nel mese di luglio. Pertanto 5 giugno 2019 sono due mesi e mezzo da oggi, 6,40 di cedola se Enel sarà al di sopra della barriera e rimborso anticipato di 106,40 se Enel sarà al di sopra dello strike. Quindi se Enel non perderà più del 18% da qui al 5 giugno, rimborso di 106,40, prezzo di acquisto oggi 104,33, come dire 2% di rendimento potenziale in due mesi e mezzo se Enel non perderà il 18%. Quindi credo di aver dato a Francesco un paio di idee di scadenza breve o almeno scadenza potenziale perché poi come abbiamo detto se non dovessero rimborsare anticipatamente a causa di un'importante discesa di Enel ci sarebbe sempre la possibilità i mesi successivi, gli anni successivi di ricevere le cedole e poi a scadenza di guardare alla barriera per la tenuta del capitale iniziale, quindi per il rimborso del capitale iniziale. Sempre abbastanza rapidamente per rimanere nell'anno 2019 con le osservazioni andiamo a vedere una terza situazione che avevamo già osservato nel nostro precedente webinar, si tratta di un altro Phoenix Memory, quindi questa struttura che ricordo consente di avere nelle stesse date o il pagamento della cedola o il rimborso anticipato o nel caso di rimborso naturalmente entrambi a patto che il sottostante rimanga al di sopra della barriera per quanto riguarda la cedola o al di sopra dello strike per quanto riguarda il richiamo del certificato con l'intero capitale nominale. In questo caso il sottostante è il titolo generali, generali che attualmente quota 16,41, generali sempre più sotto i riflettori anche per la scalata che si sta verificando da parte dei suoi soci principali che aggiornano settimanalmente le proprie posizioni al rialzo, quindi un titolo sicuramente interessante, prezzo attuale 16,41, strike 14,16, quindi una distanza attualmente, un guadagno rispetto allo strike di circa il 16%. Ora, cosa ci serve guardare allo strike? Perché il 30 ottobre, quindi comunque entro l'anno, ma fra sette mesi in particolare, ci sarà la prima osservazione per il potenziale rimborso anticipato con un premio del 6,10 o pagamento della cedola con effetto memoria sempre del 6,10. Data per abbastanza probabile la cedola del 6,10, diciamo che in questo caso pur tenendo conto dei dividendi ci sono anche buone probabilità di riuscire, almeno stando così le cose, di centrare anche il rimborso anticipato. Attualmente il certificato si acquista 102,36, quindi rendimento potenziale di circa il 4% sulla data di ottobre. Teniamo presente che nel nostro precedente webinar del 12 febbraio il certificato si acquistava a 99,7, quindi anche in questo caso una salita discreta, più che discreta in questo mese di contrattazioni. Queste erano le tre idee che avevamo visto anche a febbraio, poi ce ne stava una quarta, ce n'era una quarta che però è andata in richiamo anticipato il 27 febbraio, sempre su Enel, pagando i 106 euro. Diciamo che questo primo trimestre si sta avviando a conclusione con delle performance decisamente positive un po' su tutti i fronti, quindi non deve sorprendere che anche le nostre precedenti analisi stiano portando ad un risultato positivo. Intanto, prima di vedere invece qualche idea nuova, che ora andremo ad osservare assieme, c'è una domanda di Leonardo che mi chiede quali piattaforme online hanno commissioni più basse sui certificates. Allora, intanto posso dirti che ci sono diverse piattaforme che hanno degli accordi con alcuni emittenti che ti permettono di negoziare anche a costo zero, quindi il primo invito che posso fare dovendo scegliere oggi su quale piattaforma orientarsi e andare a guardare magari proprio quelle che hanno degli accordi online per la negoziazione senza commissioni. Ci sono chiaramente dei vincoli, c'è un quantitativo minimo, un quantitativo massimo, però comunque la possibilità di poter negoziare quindi senza commissioni. Detto questo, al di fuori delle offerte promozionali ci sono piattaforme che hanno una commissione un po' più alta, ma magari coprono perfettamente anche tutto il mercato, sono molto rapide nel censimento, o altre che invece hanno un profilo commissionale senza minimo, il che vuol dire che ad esempio se io investo anche mille euro non sono costretto a pagare un minimo di due euro e settantacinque piuttosto che di diciannove euro come avviene in alcuni casi. I nomi chiaramente sono quelli più importanti, ad esempio Directa, se è proprio per fare qualche nome e non lasciarti senza risposte, Directa è quella che non prevede commissioni minime, quindi se tu investi poco in realtà riesci a spendere anche molto poco in termini di pochi centesimi di negoziazione, Fineco ha una commissione un pochino più alta, ma ha una copertura del mercato straordinaria e anche un censimento molto rapido dei certificati, altre chiaramente si distinguono a loro volta ad esempio per delle promozioni, Bink è una di quelle che fa molti accordi commissionali con gli emittenti per la negoziazione dei certificati, WeBank ha un'ottima copertura e anche un ottimo profilo commissionale variabile, insomma sono diverse le piattaforme a seconda poi delle tue esigenze, credo che si possa andare a scegliere. In ogni caso il consiglio è di dare un'occhiata ai vari siti, provare anche a scaricare un po' le piattaforme demo e poi verificare in base alla propria operatività quale tipo di commissione rispecchia più quella che è appunto conveniente per la propria operatività come dice Lopo. Allora vediamo invece in questo caso, andiamo a guardare, c'è un titolo che nel corso delle ultime sedute si sta muovendo in maniera importante come abbiamo detto è il titolo Fiat, su Fiat abbiamo anche avuto modo di raccontare nell'ultimo periodo come ci sia il ritorno al pagamento del dividendo dopo un'assenza molto prolungata, vediamo le ultime tre candele inclusa quella di oggi ci mostrano come sia riuscita ancora una volta a tenere l'area dei 12 e 40, 12 e 50, questo è la tenuta in 5-6 sedute consecutive tra il 8 di marzo e l'altro ieri, quindi una tenuta del supporto statico in area 12 e 40, 12 e 50, un gap up, quindi un strappo rialzista nella seduta di ieri come dicevamo sulla scia delle voci di possibile matrimonio con Peugeot e oggi invece paga quello che è la flessione del comparto automobilistico europeo in particolare della flessione del titolo BMW e un po' anche il fatto che forse la voce di fusione con Peugeot non ha avuto un immediato riscontro come era ovvio che fosse e quindi oggi c'è una presa di beneficio che in questo momento è di circa il 3%, quindi abbiamo un'attuale quotazione a 13,09. Per quanto riguarda i dividendi, altro aspetto importante prima di parlare delle opportunità, abbiamo un dividendo di 65 centesimi che verrà pagato cash come dividendo ordinario il 23 di aprile data di stacco e pagamento il 2 di maggio, quindi il 23 aprile si staccherà dalla quotazione attuale questo dividendo di 65 centesimi che porterà quindi la quotazione dagli attuali 13,010 a 12,55. Dopodiché è previsto sempre entro l'anno il pagamento di un ulteriore dividendo che è un dividendo però straordinario relativamente all'operazione Magneti Marelli e quindi in questo caso l'operazione porterà ad una rettifica secondo quelle che saranno le direttive dell'Eurex o dell'IDEM, ovvero dove sono quotati le le opzioni legate al titolo Fiat Chrysler. Pertanto abbiamo una prima parte di dividendo che porterà alla discesa del titolo senza rettifiche, una seconda parte di dividendo straordinario che invece comporterà la rettifica e quindi questo non andrà ad incidere sulla sulle caratteristiche dei certificati ovvero che vuol dire che se abbiamo una barriera che in questo momento dista il 20 per cento non sarà il dividendo straordinario ad avvicinarla quindi a far sì che la barriera si avvicini perché ci sarà una rettifica dello strike e di conseguenza della barriera. Allora prima di farvi vedere le idee su su Fiat rispondo velocemente per non lasciarmi domande indietro a Fernando che mi chiede su Intesa San Paolo allora data di stacco 20 maggio 2019 quindi il terzo lunedì di maggio è la data in cui si staccano la stragrande maggioranza dei dividendi del listino italiano 0 19 e 70 quindi un dividendo ad oggi di circa il 9 per cento questo perché nel frattempo il titolo Intesa San Paolo è salito e quindi il dividendo è sceso un po' rispetto in termini di percentuale rispetto a quello che era solo due settimane fa quindi data di stacco per Fernando 20 maggio 2019 quindi quella mattina il titolo Intesa partirà al netto di 0,19 e 70 invece dunque dunque andiamo a vedere nel frattempo mi è arrivata un'altra domanda di Andrea ecco allora Andrea fa una domanda molto interessante sulla rettifica dei certificati sempre legati a Fiat ma in questo caso parliamo di certificati a leva dunque per quanto riguarda i certificati mini short quindi mini future ci sarà una rettifica dei valori quindi si procederà a il current strike che si aggiorna quotidianamente verrà rettificato secondo il dividendo che verrà staccato dividendo straordinario per quanto riguarda il turbo sempre i dividendi straordinari comporteranno la rettifica mentre quello ordinario no quindi eh anche in questo caso ci sarà una rettifica diciamo che tutto ciò che è straordinario fa rettificare tutte le basi di tutti gli strumenti tutto ciò che è ordinario invece per i mini short ad esempio l'ordinario porta ad un abbassamento del current strike mentre non incide sullo strike del turbo che rimane quindi fisso eh grazie a te Andrea eh allora andiamo a vedere le idee legate a Fiat dunque mi sono ovviamente voi eh mi pardonerete se ogni tanto esco leggermente fuori ma arrivano le domande e come sapete mi abitudine rispondere a a tutti il più possibile quindi prima idea sul titolo Fiat abbiamo un bonus cap quindi certificato che in questo caso non paga cedole ha un funzionamento di eh dei classici bonus con barriera di tipo continuo quindi più rischiosa questo è il grafico di payoff del bonus alla scadenza abbiamo una scadenza naturale al diciannove febbraio duemila ventuno quindi abbastanza lontana da oggi il certificato è stato emesso di recente in particolare il diciotto febbraio di quest'anno quindi un mese fa attualmente abbiamo come livelli strike tredici e undici attuale valore di Fiat all'ultima fotografia tredici e ventisette ma in questo momento abbiamo detto siamo poco al di sotto dei tredici e dieci barriera nove e diciassette e settanta questa è la barriera che non dovrà mai essere violata da Fiat per far sì che alla scadenza si riesca ad ottenere un premio di centotrentadue euro quindi due anni scarsi di durata trentaquattica per cento di rendimento potenziale quindi abbiamo un diciassette per cento annualizzato di rendimento a patto che Fiat non tocchi mai sul prezzo di chiusura giornaliero barriera continua valuation close quindi prezzo di chiusura giornaliero non tocchi mai la barriera a nove e diciotto andiamo a dare un'occhiata a questo valore per darci un po' un'idea di dove si posizioni questa barriera abbiamo detto quindi prezzo di chiusura giornaliero allora nell'ultimo anno come possiamo vedere la barriera a nove e diciotto non è stata mai neanche lontanamente avvicinata perché il minimo di giornata quindi non intraday ma di chiusura giornaliero è stato fatto a 12 e 41 il 3 di gennaio se andiamo ad allungare un pochino l'orizzonte temporale agli ultimi due anni andiamo effettivamente a trovare un minimo che si posiziona al di sotto in particolare l'area degli otto e novantasette che ha rappresentato il minimo di eh aprile duemiladiciassette quindi in effetti questo valore di nove eh di circa nove euro è stato toccato dal titolo Fiat ma parliamo del duemiladiciassette da quel momento Fiat è partita a rialzo andando a realizzare un rally del cento per cento quindi arrivando fino ad un massimo di circa venti euro e poi l'attuale fase correttiva con un consolidamento nell'area dei tredici naturalmente massima attenzione perché una tenuta di questi livelli non è detto che si riuscirà a conservare ancora per i prossimi due anni però non a caso il certificato offre un rendimento potenziale del trentaquattro per cento al momento al momento se andiamo a guardare vediamo un po' se ce l'abbiamo se ce l'abbiamo qui ecco allora questo è il eh certificato di cui stiamo parlando adesso ve lo vado a evidenziare allora cosa è questa che sto utilizzando è una tabella di tutti i bonus cap targati Deutsche Bank che sono in quotazione sul mercato italiano tratta dal CEDLAB così rispondo approfitto e rispondo anche a Bruno ehm che mi chiede che cosa sto utilizzando allora quella eh che questa la tabella così come anche il CEDLAB sono quindi una piattaforma di analisi che noi eh curiamo e gestiamo e quindi è una piattaforma di analisi del mercato dei certificati quella invece da cui trago i grafici e grafici che utilizzo anche per vedere i dividendi e invece è il terminale Bloomberg e quindi anche in questo caso è a pagamento ma non nostro eh quindi è direttamente di Bloomberg mentre il CEDLAB è un prodotto curato da certificati e derivati e quindi è possibile eventualmente usufruirne dietro forma di un abbonamento certamente più economico rispetto a quello di Bloomberg. Ehm tornando a noi quindi il certificato bonus cap sul titolo Fiat Chrysler scadenza febbraio duemilaventuno barriera che attualmente dista un trenta per cento circa dai valori attuali rendimento potenziale trentaquattro per cento e per darci un'idea di quali saranno eh le probabilità di successo si utilizza un indicatore probabilistico che viene stimato dal nostro ufficio studi che prende in considerazione i dividendi che verranno staccati da Fiat nei prossimi due anni la volatilità implicita e al momento la tenuta di questa barriera viene data con probabilità settantasette per cento quindi non è una una probabilità molto alta è comunque superiore al cinquanta per cento insomma mettendoci un po' di scenario probabilistico un po' di analisi tecnica si può decidere eventualmente di guardare a questo certificato che acquistato sotto la pari ha un elevato potenziale e c'è da dire che il potenziale importante ci potrebbe aiutare anche a guadagnare senza dover attendere necessariamente la scadenza cioè noi oggi acquistiamo a novantotto fra sette mesi il certificato è a centodieci nulla ci vieta che lo possiamo andare a vendere quindi non è necessario attendere per forza che si arrivi ai centotrentadue euro vi faccio vedere un'altra idea sul titolo Fiat così completiamo su questo sottostante andiamo a guardare a un'altra idea bonus cap allora Roberto la tabella sul chat lab non la vedi o meglio la vedi la puoi estrarre adesso poi ti faccio vedere se vai sulla in un page nella tabella principale e ordini per emittente così te li mette tutti assieme e poi poi estrarli e scaricarli su excel quindi è diciamo che tu la vedi con tutti i certificati quotati ma se ordini per emittente quindi clicchi sulla colonna emittente ti fa vedere solo quelli di deutschbank e quindi puoi a quel punto andare a selezionarli e metterli su excel allora certificato sempre bonus cap sempre febbraio 2021 in questo caso abbiamo una barriera un po' più alta 9 e 83 per chi ama di più il rischio e a maggior rischio che cosa corrisponde evidentemente un maggior rendimento potenziale quindi barriera che è posta un po' più alto e rendimento potenziale che a questo punto è del 42 per cento anziché il 34 del certificato che abbiamo visto poc'anzi quindi la scelta dipende essenzialmente da quanto si crede che fiat possa non scendere o comunque salire e evidentemente più è alto il bonus più reattivo sarà il certificato quindi ipotizziamo passano sei mesi da oggi fiat si trova esattamente sugli stessi valori il certificato che camminerà di più sarà quello che ha il bonus più alto perché avrà un delta maggiore rispetto all'altro certificato questo lo è sicuramente quando abbiamo lo stesso livello barriera ma anche nel caso in cui abbiamo una barriera più alta il certificato tenderà a correre un po' di più questo tra l'altro si sposa con un'ultima considerazione che facciamo sui bonus ovvero il fatto che da una parte c'è il rendimento potenziale che come vedete in questo caso del 42 per cento dall'altra bisogna vero verificare quanto perderei nel caso in cui venisse infranta la barriera e questo certificato quota in questo momento con una componente diciamo di assenza di premio quasi sulla sulla componente lineare cosa vuol dire traduco se fiat a scadenza si trovasse a 9,29 cioè al di sotto della barriera perdendo il 30 per cento da oggi il certificato mi farebbe perdere il 28 per cento quindi non abbiamo una performance che andrebbe a peggiorare rispetto all'andamento del titolo fiat e quindi questa per chi ha ad esempio volontà di investire su fiat potrebbe anche essere un'opportunità di diversificazione perché in caso di rottura della barriera non perderei di più mentre in caso di tenuta della barriera andrei a guadagnare potenzialmente anche il 42 per cento a fronte di un meno 20 quindi questo è un po' il potenziale di questo genere di certificati mi premia anche se il sottostante scende ma non rompe la barriera. Ora dunque dunque volevo farvi vedere e anzi così mi mi chiede aggancio anche al titolo intesa san paolo perché un'altra idea di recente emissione e qui sempre su ced lab è possibile trovare una tabella dei certificati di nuova quotazione ma di recente emissione c'è un certificato legato a intesa san paolo che può effettivamente essere molto interessante certo non ci sono questi guadagni quindi il 40 per cento lo lasciamo a strutture con barriera continua su un titolo come fiat con scadenza due anni qui invece torniamo per un momento nel mondo dei prodotti un po' più tranquilli che potenzialmente possono dare soddisfazioni ma che hanno innanzitutto la barriera di tipo europeo ovvero osservata solo a scadenza e un pagamento non di un premio unico alla scadenza bensì di un flusso potenziale di cedole. Allora nel caso specifico il certificato è stato emesso il 31 gennaio di quest'anno quindi attualmente si acquista direttamente sul mercato secondario poco al di sotto del nominale quindi nell'area dei 99 88 ma fosse anche 100 andrebbe comunque bene lo stesso. Il certificato ha la struttura del Phoenix Memory quindi di quelli di cui abbiamo già parlato e il sottostante è intesa San Paolo. Come potrete vedere lo strike è stato fissato su livelli decisamente bassi due e zero sei ma è la barriera a essere particolarmente bassa non è la più bassa in circolazione perché ci sono alcuni di collocati dalla stessa Deutsche Bank che hanno anche barriere a zero sessanta zero settanta ma comunque una barriera a uno e zero tre è oggettivamente una barriera che dovrebbe garantirci una sostanziale tranquillità per per il prossimo futuro anche perché a questa barriera cioè il livello di uno e zero tre è condizionato il pagamento di una cedola mensile dello 0,605 quindi 0,60 mensile che corrisponde circa al sette e quaranta su base annua poco meno sette e trenta su base annua da incassare mensilmente se intesa rimane al di sopra degli uno e zero tre quindi la prima cedola del ventotto febbraio ormai è stata pagata abbiamo la seconda cedola che verrà rilevata il 29 marzo 29 marzo 2019 pagata il 5 di aprile anche in questo caso la condizione che intesa sia sopra uno e zero tre e così via di mese in mese fino ad arrivare al 31 luglio 2019 31 luglio 2019 sarà la prima data dove oltre al pagamento della cedola entrerà in funzione anche l'opzione autocallable quella che permette il richiamo anticipato del certificato per far sì che possa essere richiamato anticipatamente rimborsando quindi i cento euro nominali è necessario che intesa si trovi almeno al 95 per cento del livello iniziale quindi praticamente non servono i due zero sei dello strike ma due virgola zero sei meno il 5 per cento quindi un livello di uno 95 e 70 attualmente quindi ci sarebbero le condizioni per incassare le cedole con elevata probabilità perché la barriera 1 e 0 3 è oggettivamente molto molto lontana e se guardiamo allo spot cioè al prezzo attuale di 2 e 24 ci sarebbe anche il presupposto per il rimborso anticipato attenzione perché ritornando a quanto abbiamo visto prima sulla domanda di fernando intesa pagherà il 20 di maggio il dividendo di circa 20 centesimi quindi per la data di osservazione valida per l'autocall che cadrà a luglio bisognerà tenere conto del dividendo quindi 2 24 è il valore attuale meno circa 20 centesimi di dividendo scendiamo a 2 0 4 pertanto ci avviciniamo ci avviciniamo molto allo strike che serve per il rimborso anticipato ora ognuno naturalmente valuta la bontà delle situazioni però c'è da dire che questo livello di 1 95 terrà sarà valido solo per i primi 6 mesi perché poi a partire da febbraio 2020 il trigger cioè il livello per il rimborso anticipato scenderà al 90 per cento quindi ci sarà in realtà la possibilità del richiamo anticipato con maggiore semplicità e quindi da febbraio fino ad arrivare alla data di aprile 2020 ci saranno tre mesi per ottenere il rimborso anticipato con trigger 90 senza che intacchi il dividendo di maggio 2020 cioè senza che quello vada ad abbassare ulteriormente il livello spot di intesa san paolo quindi al momento acquistandolo praticamente sul nominale possiamo contare su 1 2 3 4 almeno cinque cedole se ci sarà rimborso a luglio quindi circa un 3 per cento poi se ci sarà rimborso perché intesa sarà scesa al di sotto dello strike andremo avanti a cedolare perdonate insomma questo utilizzo orribile del del sostantivo però andremo ad incassare cedole per 0 60 mensile e poi potenziale rimborso anticipato che avverrà nei mesi successivi il trigger per il rimborso anticipato come vedete scenderà ulteriormente da agosto 2020 all'ottantacinque per cento poi all'ottanta poi al settantacinque insomma si vuole effettivamente rendere molto probabile il richiamo prima della scadenza naturale del 2022 allora emesso da deutschbank è sicuramente il certificato con barriera più bassa non è quello con barriera più bassa collocato dalla rete deutschbank financial advisor perché esiste per la rete sono ci sono stati un paio di recenti emissioni che hanno una barriera ancora più bassa in questo caso però parliando di certificati targati deutschbank questo è quello con la barriera più bassa di confermo monica che quindi non non ce ne sono con barriera più bassa di 1.03 viceversa dato che molti di voi che siete in ascolto seguite i certificati anche in la parte della fase di collocamento ecco lì ci sono state un paio di situazioni dove la barriera è stata ancora più più bassa di 1.03 quindi questa questa idea a mio avviso è da seguire perché acquistando la ridosso del nominale si punta un tre e mezzo entro la prima data di osservazione poi se proprio dovesse andare male magari sarebbe anche lo scenario migliore perché se non rimborsasse paradossalmente forse da una parte sarebbe anche meglio vista l'ottima cedula mensile dello 0,605 andiamo ancora rimaniamo nel settore bancario e vi volevo portare a conoscenza di un'altra recente emissione che in prospettiva quindi non nell'immediato ma in prospettiva può essere può essere valida stiamo parlando di un di un altro phoenix memory emesso sempre al 31 gennaio 2019 in questo caso usciamo dal dall'italia o almeno dal singolo titolo per andare su un sottostante eh indice quindi eh dove la volatilità almeno sulla carta è un po' più bassa nel caso specifico stiamo parlando dell'euro stocks banks strike 93,55 punti barriera a 56,13 quindi una barriera molto 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 bassa allora andiamo a vedere in questo caso l'euro stocks banks e quindi come si sta comportando quali sono i livelli e dove si posiziona la barriera abbiamo quindi un attuale valore di 97 punti un minimo dell'ultimo anno fatto a 84,80 lo strike del certificato è stato fissato il 31 gennaio qui da queste parti intorno ai 93 quindi abbiamo un massimo un minimo dell'ultimo anno a 84,80 ehm è anche il minimo degli ultimi due anni ma provo ad andare ancora un po' più indietro andiamo al 2015 scopriamo che il minimo è stato fatto a 78 punti quindi anche per del 2015 siamo abbondantemente sopra proviamo ad andare al 2011 2011 troviamo un minimo a 73 punti quindi non riusciamo ancora neanche in questo caso ad avvicinarci alla barriera del certificato proviamo ad andare al 2005 niente da fare possiamo andare indietro quanto volete perché il minimo storico fatto dall'euro stocks banks adesso non vorrei lanciarmi definendo lo storico ma insomma almeno sicuramente degli ultimi vent'anni è stato fatto a 73 punti come vedete adesso ho mandato il grafico indietro al 1995 e il minimo dell'indice è stato fatto a 73.06 andiamo ritorniamo qui la barriera del certificato e a 56,13 quindi vuol dire praticamente che dalla barriera di 73 abbiamo una distanza di ulteriori 17 punti assoluti che in percentuale vuol dire un ulteriore 25 per cento al di sotto dei minimi storici che mi vengono confermati ti ringrazio anche da monica quindi barriera 56,13 a cosa ci serve questa barriera per due cose la prima incasso di una cedola annua del 5,30 e quindi abbiamo un rendimento annuo del 5,30 legato alla tenuta di questa barriera e se si arriva alla scadenza del 2024 protezione del capitale quindi se guardiamo alla sola barriera dei 56 punti è sufficiente che venga mantenuta da qui alla scadenza di gennaio 2024 non nel durante ma a quella data perché una barriera di tipo europeo si guarderà solo a quella data è sufficiente nel 2024 si sia sopra questa barriera dei 56 punti per essere certi di aver guadagnato il 5,30 annuo lordo se non ci sono minus netto se ci saranno minus da portare in compensazione se invece l'indice sarà anche superiore ai 93 punti e abbiamo detto in questo momento ci troviamo al di sopra a questo 15 sarà quindi il richiamo anticipato e l'investimento terminerà prima del tempo ultima notizia da condividere prima di andare a vedere qualcos'altro è il rendimento da dividendo pagato dall'eurosox banks ogni anno c'è circa un rendimento di cinque punti e mezzo non percentuali o che poi corrisponde in realtà anche più o meno al dividend yield perché negli ultimi 12 mesi il dividendo corrisponde al 5,40 quindi 5,40 di rendimento dato da dividendi che dovrà essere ridotto dalla quotazione attuale dell'indice 97,26 quindi pur tenendo conto dei dividendi la cedola in realtà corrisponde un po a questo cioè il dividendo annualizzato è di circa il 5,40 il certificato ci paga una cedola del 5,30 quindi è un po' come dire trasformo il dividendo in una cedola che però da una parte rappresenta un reddito diverso compensabile con le minus mentre il dividendo viene tastato necessariamente alla fonte in più consideriamo che questo dividendo che si trasforma in una struttura opzionale del certificato mi permette anche di implementare una protezione che mi garantisce la tenuta del capitale iniziale fino a una barriera di 56 punti mai toccata storicamente quindi diciamo che non è un certificato particolarmente generoso per essere legato al settore bancario la cedola del 5,30 annua non è così eccezionale ma la paga su livelli che non sono mai stati neanche lontanamente avvicinati dall'indice quindi ecco un certificato per chi vuole implementare una diversificazione di portafoglio con un profilo di dischio paradossalmente basso o comunque non non superiore al livello medio di rischio nonostante l'indice sia volatile ma proprio in funzione come abbiamo detto di una barriera posizionata a livelli mai toccati ok quindi anche del banks abbiamo parlato fiat abbiamo visto a questo punto prima di andare eventualmente a dare qualche altra indicazione in risposta a vostre segnalazioni diamo uno sguardo alla tabella dei bonus cap quindi torniamo a vedere un po' la situazione dei bonus cap in quotazione sulla base dei prezzi attuali abbiamo qui vedo subito nelle prime quattro eh quattro righe con scadenza maggio duemiladiciannove tre titoli del settore automobilistico tedesco Volkswagen BMW e Porsche quindi tutti e tre scadenza ventiquattro maggio duemiladiciannove e per tutti e tre eh si inizia a eh ballare un po' perché la barriera comincia ad essere non più così distante in particolare il titolo BMW che oggi sta lasciando sul terreno il cinque per cento circa abbiamo una barriera sessantasette e novantadue quindi intanto andiamo a dare un'occhiata all'attuale quotazione del titolo BMW e vediamo un po' per chi ama un po' di rischio quindi settantuno e ottanta l'attuale quotazione di BMW eh settantuno e ottanta minimo fatto a sessantanove e trentacinque e sessantanove zero cinque addirittura inizio anno con una barriera che però abbiamo detto in questo caso sul titolo BMW una barriera sessantasette e novantadue quindi è stata sfiorata è stata sfiorata inizio anno è stata tenuta in occasione dell'ultima discesa attualmente abbiamo una barriera che si è avvicinata pericolosamente certificato che si acquista oggi vediamolo prezzo attuale di quotazione in tempo reale andiamo a vedere aspettiamo che si carichi novantasei e settantacinque quindi attualmente si acquista novantasei e settantacinque il certificato e quindi novantasei e settantacinque rendimento potenziale del ventuno per cento se terrà la barriera dei sessantasette euro e novantadue sessantasette e novantadue certificato pericoloso indubbiamente pericoloso vediamo anzi prima di eh di valutare vediamo se BMW ha lo stacco di dividendi in programma e quindi vediamo un attimo i dividendi di BMW soprattutto se ce ne sono sì sì allora come non detto BMW staccherà un dividendo di tre euro e cinquanta il diciassette di maggio quindi diciassette maggio tre euro e cinquanta il certificato scadrà il ventiquattro di maggio quindi a questo punto cosa possiamo dire che partendo dagli attuali settantuno e novanta ci togliamo tre euro e mezzo siamo a sessantotto e quaranta il certificato è un dead man walking è virtualmente quasi morto quindi attenzione più che altro per chi ce l'ha perché questo certificato che apparentemente ha ancora un po' di distanza alla barriera se consideriamo il dividendo che verrà staccato di tre euro e mezzo il diciassette di maggio rischia di essere praticamente già arrivato quasi in barriera quindi rendimento potenziale molto importante se si crede nella tenuta di questi livelli da parte di BMW ma attenzione perché il dividendo potrebbe portarci in rottura barriera già eh una settimana prima della scadenza se rimanessimo su questi livelli eh dunque dunque allora eh Attilio eh sì guarda allora ti dico cosa cosa ho fatto io molto semplicemente ho preso la tabella che tu vedi normalmente dal chat lab mi sono fermato con il puntatore sul primo Aisin ho trascinato fino giù copia incolla su Excel e mi sono portato dietro tutti i valori incluso il chat probability quindi eh facendo così è possibile scaricare tutto fermo restando che stiamo lavorando a una serie di funzioni sapete che i nostri tempi sono non non sempre brevissimi ma stiamo lavorando a una serie di funzioni per rendere più fruibile anche la scheda del certificato stesso ehm Lorenzo eh mi dà uno spunto ma ma ti ringrazio perché mi dà modo in realtà di parlare di questa cosa ehm Pierpato perché anziché comprare certificati quella con più o meno rischio non sarebbe meglio costruire un portafoglio in certificati un po' più diversificato e con una migliore strategia eh naturalmente sì Lorenzo ed è quello che facciamo con il nostro ufficio studi che tra l'altro tu conosci anche ehm esattamente quello che facciamo cioè è chiaro che le singole idee possono servire per diversificare situazioni già esistenti però eh è in dubbio che andare ad unire ad esempio un Phoenix Memory con un certificato protetto con un certificatore bassista ci permette di creare un portafoglio con una strategia ben precisa che possa portare a un risultato in moltiplici scenari quindi raccolgo il tuo invito e rilancio dicendo che effettivamente è un po' quella l'evoluzione di chi utilizza i certificati cioè iniziare non più a inserire trenta quaranta cinquanta certificati in portafoglio che purtroppo a volte ci si scopre anche di avere molti doppioni ma di provare anche a legarli l'uno con l'altro per creare una strategia in ottica di portafoglio e questo il nostro ufficio studi lo fa nel senso che va proprio a realizzare portafogli in questo senso però tornando invece a quelle che sono le singole idee si cerca ecco di dare un po' di spunti sia per chi chiede operazioni di breve chi un po' più di lungo chi prodotti un pochino meno rischiosi e chi invece ama ama il rischio quindi tornando alla tabella dei bonus cap il primo che abbiamo visto appunto su bmw questo oggettivamente è molto rischioso non a caso il ced probability ce lo da oggi con una percentuale di probabilità di successo del 43 per cento e questo quando si vanno a fare degli scenari probabilistici insomma è un dato abbastanza significativo è vero che è poco sotto la metà però sinceramente investire avendo meno di una probabilità su due di successo insomma non è forse non è diciamo l'ottica giusta di un investimento è più di una scommessa e quindi dato che io non amo mai parlare di scommesse questo tipo di situazioni si fanno se si è consapevoli del rischio che si corre ehm un po' più tranquillo decisamente è invece il certificato scadenza eh sempre maggio duemiladiciannove sul titolo Porsche ehm che paga un potenziale rendimento del tre e venticinque qui abbiamo una barriera che vista il quattordici e quarantadue per cento su scadenze entro l'anno abbiamo ancora fuori dal settore automobilistico il titolo Allianz rendimento ormai molto risicato sulla scadenza maggio uno e settantacinque per cento e poi a salire vedete tutta una serie di rendimenti a doppia cifra che però iniziano ad avere anche probabilità un po' più basse e e eh invece dicevamo anche scadenze più lunghe ad esempio undici dodici quindici per cento di rendimento potenziale ma sulle scadenze febbraio duemilaventuno ehm Attilio dopo proviamo ad assisterti personalmente anche perché io l'ho scaricata da direttamente dalla dalla piattaforma e ho fatto copia e incolla quindi se ci sono riuscito io che non sono un fenomeno di di diciamo in tecnologia credo che dovrebbe dovremmo riuscirci ti garantisco assistenza appena terminiamo il webinar e dunque vediamo un po' Pier Tommaso ehm ti leggo ti leggo integralmente eh il problema secondo me per i certificati eh in scadenza è dato dalla quantità in vendita spesso si tratta di poche centinaia di pezzi in offerta ehm ok allora Pier Tommaso praticamente mi segnala la la criticità legata al fatto che molti certificati quando arrivano verso la quota la scadenza non ha non offrono un quantitativo di vendita di lettera tale da insomma riuscire a soddisfare magari una la volontà di investire un po' di più allora chiaramente Pier Tommaso ci sono situazioni e situazioni mi spiego ad esempio in questo momento tutti i bonus cap che stiamo vedendo qui se proprio tu li volessi acquistare anche nell'ordine di un cinquecentomila euro il market maker sarebbe felicissimo di darteli quindi ehm ti ti dico che in realtà qua la quantità c'è il problema riguarda magari quelle scadenze come abbiamo visto un certificato ehm ecco vi faccio vedere ad esempio da questa tabella che è quella delle prossime osservazioni anticipate per pagamento cedola o per rimborso anticipato anche questa estratta dal CEDLAB qui abbiamo un certificato molto interessante che andrà in rilevazione il ventinove di marzo duemila diciannove che ehm al recupero delle euro stocks di circa un tre per cento ci darebbe un guadagno potenziale di circa il tre per cento quindi ci paga come le euro stocks ma anche una struttura eh a capitale protetto è diventata praticamente ho questo certificato non ha lettera quindi è uno di quelli dove se tu volessi effettivamente acquistare non riusciresti pertanto ci sono situazioni dove il certificato ormai è in bidonli e quindi non consente l'acquisto se non prendendo qualche scarico di qualche privato oppure è in lettera da parte del market manager con quantità di V molto bassi quindi effettivamente esiste questa criticità riguarda qualche prodotto sicuramente interessante però non riguarda tutti i certificati anzi devo dire che ci sono anche dei certificati di capitale protetto che scadono entro l'anno che sono scambiati per diversi milioni di euro con regolarità e questo dimostrazione che dipende più che altro dal plafon di emissione cioè se il plafon è andato esaurito e ad esempio questo certificato che sto selezionando qui e questo ha fatto un collocamento ed è andato quasi del tutto esaurito poi sul mercato sono finiti i pezzi che erano rimasti e quindi oggi è in bidonli allora vediamo un po' come estrarre la tabella allora lo ripeto naturalmente dandovi anche la garanzia di assistenza eh personale eh alla termine di questo di questo webinar si va direttamente sulla tabella dei bonus o piuttosto sulla tabella di tutti gli altri certificati adesso vi faccio vedere così molto rapidamente per non dare diciamo troppa evidenza né a numeri né a eh a valori quindi diminuiscono un pochino i caratteri però se voi puntate qui sul primo isin e andate a trascinare praticamente ecco così abbiamo selezionato praticamente tutti i certificati a quel punto copia incolla su excel e potete trascinarvi tutto quindi è eh questa la modalità per poter eh estrarre dalle tabelle del CEDLAB quello che più vi interessa e dunque per Monica su CEDLAB se è possibile inserire quando un certificato in bidolli allora in realtà adesso è un po' la situazione opposta nel senso che quando è in bidolli dubbi di zero nella lettera quindi già lo si capisce ho già ricevuto più di una richiesta per una estrapolazione dei certificati che hanno zero il problema è che eh le fotografie che sui prezzi che vengono fatte quattro volte al giorno potrebbero fotografare uno zero quindi nel momento di assenza del market maker ma poi il certificato in realtà non è in bidolli quindi mh è un po' difficile fare una fotografia che sia effettivamente affidabile comunque se è un qualcosa che trovate utile possiamo valutare di di provare ad implementarlo eh quindi o spero di aver risposto sia a Giuliano che a Dattilio se avete ancora difficoltà per l'estrapolazione dai dati naturalmente vi invito anche a contattarci anche mh alla fine di questo webinar eh quindi Monica ok va bene procederemo per quanto riguarda i certificati quindi vi ricordo abbiamo dato un po' di un po' di di numeri oggi con un paio di situazioni su Enel eh una su generali due su Fiat un certificato Phoenix Memory legato all'indice Eurosox Banks e uno splendido certificato su Intesa San Paolo con barriera molto bassa a uno e zero tre quindi eh insomma credo e spero di essere riuscito a dare più di uno spunto operativo nel frattempo ci ricolleghiamo in chiusura proprio per vedere un po' come si stanno muovendo i mercati e è diventato rosso anche il Nasdaq da più zero dodici a meno zero quattordici insomma ma comunque continua a tenere rispetto anche ad altri indici o altri listini come ad esempio il DAX che abbiamo detto il ribasso dell'uno e trentaquattro per cento sul future e zero ottantaquattro invece per l'Eurostox cinquanta va bene allora mi sembra di essere riuscito in qualche modo a darvi degli spunti forse sono riuscito paradossalmente a rispondere anche a gran parte delle domande un po' più semplici ce ne sono come sempre qualcuno un po' più articolata alla quale poi risponderò successivamente e se ci sono difficoltà lo ribadisco nello scarico dei dati contattateci anche via mail ci sarà chiaramente saremo a disposizione per potervi assistere e io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo webinar di marzo con Deutsche Bank appuntamento al mese di aprile per il nostro prossimo incontro dove torneremo a parlare dei certificati visti oggi e vedremo un po' se il mercato avrà continuato a crescere dando soddisfazione a chi ha già investito ma creando sempre un po' più di difficoltà per la ricerca di nuovi spunti operativi. Buon pomeriggio a tutti, buona serata e appuntamento quindi al prossimo incontro grazie, un caro saluto a tutti voi che mi state scrivendo e state salutando. Alla prossima!